galattici amici ma soprattutto galattica amiche siamo qui con lorenzo corti e giulio dadei perché siamo qui con voi allora noi siamo i responsabili alla ludic in coming milano il ramo milanese della ludic in coming associazione di wargame e wargame nata a roma siamo qui grazie anche l'accento l'accento è tipico del trentino alto alle visto io depisto infatti ragazzi non mi senti italiano sono alto adesino quasi trucco esatto sostanzialmente ringraziamo voi per questa ospitalità questo grazie a voi per essermi prestati abbiamo praticamente rapidi tanto che ci avete dato questo spazio per sostanzialmente pubblicizzare una lega che stiamo per organizzare assieme a tutti quanti o comunque i negozi del milanese che sono interessati all'interno dell'universo di warhammer underworld inizialmente shakespeare e poi quando sarà annunciata la prossima espansione night vault lo scopo è quello di appunto creare aggregazione tra diverse comunità andando a creare un circuito torneistico che non sia solamente orientato al competitive ma principalmente all'aggregazione fra giocatori in modo tale da riunire prima la comunità milanese e poi possibilmente la comunità italiana nell'ottica di poter organizzare con la partecipazione di games workshop un gran clash al prossimo play quindi diciamo che l'obiettivo è un po ambizioso cose colose c'è molto sugo c'è molto sugo e pubblicheremo nei prossimi giorni un infopack e la lista dei negozi che hanno aderito sono tantissimi negozi che hanno aderito a questa iniziativa e credete dove diciamo anche di andare a vedere anche sulla vostra pagina facebook anche sulla nostra pagina quindi su guida galattica per modellisti ci trovate direttamente lì o in alternativa dove vi troviamo sulla ludic sulla pagina da ludic in coming milano e sul gruppo di warhammer underworld italia come si create voi questa in questa epica impresa ludica eccetera eccetera come ludic in coming nasce circa due anni fa quindi a fine 2016 grazie a diciamo l'esportazione dell'esperienza romana della ludic in coming di roma da parte di giulio che si è trasferito a milano ci siamo conosciuti tipo virus in giro si è sparso direi che calza alla perfezione questo termine di amici da lì è nato un po il gruppo inizialmente eravamo due tre quattro persone poi man mano ci siamo espansi a lasciare i numeri che siamo oggi quindi così è come è nata la ludic in coming milano il tutto nasce appunto da far sì che nascano focolai di gioco organizzato ma soprattutto nasca una comunità che sia unita a livello territoriale ea livello nazionale questo gioco ancora poco supporto da parte dei negozianti e da parte della casa madre e quindi riteniamo che aspetti a noi giocatori dare quella marcia in più per creare aggregazione una formula che vada sia dalla sua componente hobbistica in quanto comunque all'interno di warhammer underworld sono presenti delle bellissime miniature che non fanno altro che avvicinare i giocatori al mondo del wargames 3d tipico della della casa games workshop e al tempo stesso dare quel pizzico di competitività diciamo di quei sistemi di gioco da plancia 2d che sono comunque molto più propensi a creare circuiti seppur più piccoli rispetto al grande mondo della games workshop nelle sue ambientazioni quindi diciamo è un obiettivo un po ambizioso ma nasce da un'idea di fondo molto valida che vogliamo portare a termine con molta volontà e sostanzialmente passione ragazzi io vi ringrazio come si dice a volzano daie daie cosa è volzanino proprio ovvio 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 vi lasciamo tornare al vostro torneo un bocca al lupo e grazie ciao ragazzi grazie 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 a tutti.